Mi trovo nel borgo antico di Taranto, in città vecchia, proprio a due passi dal meraviglioso lungomare Garibaldi. Sono precisamente infatti in via Garibaldi 240, scale D e EF, ma è tutta l'area, la zona di queste casse di pertinenza dell'arca ionica ex IACP. Sono stato chiamato per rappresentare lo stato di decozione, di degrado assoluto in cui le stesse versano. Lavori che furono iniziati per un presunto cappotto termico anni fa, furono fatti dei singoli interventi per cui detto in parole povere si è andati ad incidere sulle pareti, sul muro. Però poi sono passati, sono trascorsi anni e come si suol dire, chi si è visto? Si è visto. Gli interventi, le parti proprio aperte sulle pareti, sul muro, sono rimaste tali all'esterno e di cappotto termico e di completamento non si è vista neppure l'ombra. E quindi per non parlare poi delle condizioni di umidità, ma ce ne siamo occupati anche in altri servizi che appunto sussistono all'interno delle abitazioni. Dicevo, questi abitanti della zona, questi cittadini hanno sollecitato un mio intervento. E allora sentiamo la loro viva voce. Come si vive in queste situazioni? Beh, credo che comunque bisogna mettere in evidenza che questi lavori avrebbero dovuto essere fatti già a suo tempo e non sono stati fatti. Quanti anni? Forse due o tre anni fa? Ah, forse un tre anni fa, però vado un poco a memoria. Il problema è che la gente abbia accettato di buon grado anche l'incomodo per alcuni giorni che li hanno creato. Con la speranza di vedere migliorata la cosa? Speravano certamente che i lavori si sarebbero fatti in un tempo accettabile, però a distanza di tre anni ancora non ci sono le indicazioni di che cosa vogliono fare e come vogliono farlo. E soprattutto qual è il progetto per queste case popolari. Ovviamente poi queste parti, lo dico volgarmente, in maniera tecnica, aperte nel muro, hanno creato paradossalmente delle infiltrazioni, delle penetrazioni di acqua e di umidità all'interno. Perché ovviamente quando vai a scalfire, a svuotare parte della superficie esterna, ovviamente poi all'interno l'umidità, l'acqua penetra. E quindi questa gente da tre anni aspetta gli interventi esterni e intanto all'interno l'umidità regna sovrana. Tra l'altro bisogna pure capire se c'è volontà di sistemarli, in quanto tempo intendono sistemare, al di là del passato perché io sono sempre dell'idea che quello che è stato fino a ieri non conta, ma oggi dobbiamo fare un esame di quella che è la situazione attuale e sperare che da domani cambia qualche cosa. Perché ci sono anche stati altri problemi relativi anche all'acqua che arriva calda, bollentissima durante le strade perché i cassonetti dell'acqua depositati sul terrazzo non sono protetti e quindi d'inferno... L'acqua gelida d'inverno è bollente, ma voi vi siete sicuramente rivolti all'arca ionica, all'ex IACP, evidentemente nessuna risposta. No, ha fatto solo i carottaggi, come potete vedere, ha fatto quelli che comunemente si chiamano dei fori che poi non sono serviti a niente perché non c'è un'indicazione reale di che cosa vogliono fare, e soprattutto in quanto tempo lo vogliono fare. Quindi che cosa si deduce? Che gli abitanti del posto incominciano a farsi la domanda ma questi lavori devono essere fatti o non... O restate, come dire, abbandonati a voi stessi. Ora io dico, queste sono situazioni ovviamente di competenza dell'arca ionica dell'ex IACP, però io dico anche, ecco, un'amministrazione comunale pur non essendo campo suo, proprio perché parliamo di zone, di immobili che insistono appunto nel borgo, nel cuore del patrimonio storico di Taranto, beh, un'amministrazione comunale dovrebbe degnarsi quantomeno di chiamare i vertici dell'OIACP, sollecitare e dire, scusate ma io, amministrazione comunale, sto vedendo dei palazzi che stanno letteralmente crollando a pezzi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che le infiltrazioni, come dire, proseguano all'infinito fino poi a determinare dei danni che possono essere anche irreparabili. Per non parlare poi delle condizioni di salute in cui versano le persone all'interno, perché poi vivere anni e anni con quell'umidità, soprattutto per anziani e bambini, crea dei danni enormi alla salute. No, io qua credo che bisogna decidere se di queste palazzine vogliamo fare una struttura che sia una struttura, diciamo, ottimale per gli abitanti, visto che comunque in città vecchia si sta parlando di ristrutturare i borghi soli, si sta parlando pure che questa villa dovrebbe avere un aspetto diverso. E poi c'è una contraddizione. Certamente. Allora, voglio dire, io capisco pure che magari a distanza di tempo sono stati un poco trascurati, però se oggi ci sono le condizioni economiche per poterli fare questi lavori, perché non mettono in condizione la gente di vivere in una situazione diversa da quelle che attualmente è e che non possono continuare ancora per tanti anni. Credo che questo sia il messaggio che va dato all'Arca Ionica. Naturalmente se l'Arca Ionica vuole rispondere, se ci vuole andare soprattutto di fare il lavoro, altrimenti ce lo porteremo a Sinedia questo fatto qui. Grazie.